Siamo in tempi di coronavirus e ovviamente le officine meccaniche che possono stare aperte parlano della loro professionalità. Simone Auto che già conoscete molto bene è una persona che non si è fatta intimorire ma è andata avanti rispettando le norme, vero Simone? Ci proviamo, guanti, mascherina, cerchiamo da stare in stanza, abbiamo trantennato l'officina, lavoriamo solo su appuntamento in modo da eliminare gli ingressi e le uscite dall'ufficina, le persone, quelle poche che arrivano stanno fuori, cerchiamo di fare le consegne a domicilio noi delle vetture, le andiamo a prendere e le riportiamo.